Su questo canale vi ho raccontato tante storie terribili, ma quella che voglio raccontarvi oggi è sicuramente una delle peggiori. Le azioni dell'uomo di cui vi parlerò sono paragonabili, se non peggiori alcune volte, a quelle di Albert Fish. E se mi seguite sapete di cosa sto parlando. Ecco, allo stesso modo, ma dall'altra parte del mondo, quest'uomo fece cose indicibili e rivoltanti. Si tratta di un vero mostro che ha terrorizzato la Russia per 12 lunghi anni. Lui è il macellaio di Rostov. Ragazzi, buonasera. Sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose, siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. E oggi eccoci qui con un altro caso russo, la storia di Andrei Cicatilo, che è una delle peggiori che esistono su questo pianeta, ve lo giuro. Ultimamente non so perché sto scegliendo casi forse un po' troppo pesanti. Comunque, vi avevo già accennato di lui nel video del killer della scacchiera, ricordate? Ecco. Prima di cominciare vi chiedo subito scusa per la pronuncia di alcuni nomi, di città e di persone. Giuro che cercherò di fare del mio meglio, ma non prometto nulla. Stiamo per affrontare un caso lungo, molto violento e disturbante. Cercherò di stare calmo perché toccheremo temi che, come sapete, mi fanno molto incazzare e mi fanno venire l'ansia solo a sentirli. Davvero, se conoscete Albert Fish, sapete già tutto. Se non lo conoscete, ci ho fatto un video tempo fa che potete recuperare dopo di questo. Lì vi ho detto che quello di Fish è l'unico caso che mi ha fatto davvero venire l'ansia. Ecco, parliamo delle stesse cose fondamentalmente, quindi non sarà facile. Ma non perdiamo altro tempo e iniziamo subito con il file di oggi. Ci troviamo in Russia, ma all'epoca era ancora Unione Sovietica. In quegli anni si respirava un'aria strana. C'erano tante cose che non andavano, anzi sinceramente troppe per riassumervele in poco tempo. La seconda guerra mondiale era alle porte e il 16 ottobre 1936 nasceva lui, Andrei Romanovich Cicatilo. Un bambino decisamente sfortunato. Andrei viene al mondo nel villaggio di Jablukne, nella Repubblica Socialista Sovietica di Ucraina, non troppo distante dal confine russo. I suoi genitori sono semplici agricoltori. La loro è una famiglia molto umile, come tante altre dell'epoca, e come tutti in quel periodo vive nella totale miseria. Purtroppo in quegli anni la carestia portava molti a vivere per le strade, a risparmiare tantissimo anche sul cibo, e molti addirittura per via di questo cedevano al cannibalismo pur di mettere qualcosa nello stomaco. Alcuni, come probabilmente la famiglia di Andrei, erano costretti a mangiare foglie ed erba. Diciamo che il contesto è tra i peggiori che possano esistere. Il bambino cresce molto probabilmente denutrito, ma tutto sommato la sua è una famiglia unita, almeno fino allo scoppio della guerra. Poi, da lì, tutto peggiora. I nazisti entrano nell'Unione Sovietica e scoppiano violentissimi conflitti. Il padre di Andrei viene chiamato al fronte, ma viene fatto prigioniero dai nazisti quasi subito. In tutto ciò, il bambino e sua madre vivono insieme e sono costretti a dormire nello stesso letto. E la tensione in casa loro è davvero palpabile. Sua madre non è più la stessa, è nevrotica e punisce spesso Andrei, anche e specialmente quando bagna il letto. Il bambino quindi cresce timido e ovviamente impaurito dagli orrori della guerra. Attorno a lui c'era letteralmente l'inferno. Ogni giorno vedeva bombardamenti, morti e persone che soffrivano. Lui era una di quelle persone, ovviamente. Molti soldati tedeschi poi approfittavano sessualmente delle donne del luogo e infatti diverse fonti affermano che la madre di Andrei probabilmente è stata vittima di uno di questi stupi. Sempre durante la guerra, mentre suo marito, guarda caso era prigioniero, lei dà alla luce una bambina, la sorellastra di Andrei, che chiama Tatiana. Come potrete facilmente capire, vivere in quel periodo non era affatto facile per nessuno. Nemmeno un adulto avrebbe potuto prepararsi mentalmente e fisicamente a sopportare tutto questo. Figuriamoci un bambino così piccolo. Andrei, per via di tutto questo, cresce deviato e traumatizzato e sua madre, l'unica figura adulta vicina a lui, non fu per niente d'aiuto. Non è chiaro il perché, ma un giorno la donna raccontò ad Andrei una storia talmente tanto disgustosa che il bambino, che al momento aveva solo 5 anni, non avrebbe mai scordato. Gli raccontò che un suo cugino, o suo fratello a seconda delle fonti, nel 1934 era scomparso dal villaggio. Forse rapito per essere mangiato da qualcuno a causa della caristia. Ecco, il cannibalismo da quel momento fece un certo effetto nella mente di Andrei. Da una parte era disgustato, ma dall'altra affascinato. E ne era affascinato, forse perché era arrabbiato per via di ciò che vedeva intorno a sé. E il fatto di pensare a questa pratica, magari gli dava tipo le speranze di usarla contro i nemici, in modo da difendersi, forse. Sto facendo questo ragionamento perché una fonti afferma che Andrei ha avuto delle fantasie perverse contro dei soldati nazisti, immaginando di portarli in un bosco e far loro del male. Intanto, dopo un anno dalla nascita della sorellastra Tatiana, Andrei comincia ad andare a scuola. E anche lì è costretto a vivere un inferno. È un bambino molto timido, riservato, e per questi motivi viene preso di mira e bullizzato. Quante volte abbiamo sentito questa storia? Tantissime. Comunque Andrei ha talmente paura di essere giudicato che non dice nemmeno di avere problemi di vista, pur di non portare gli occhiali. Si accontenta di vedere poco alla lavagna a causa della sua miopia, ma ovviamente questo non ferma i suoi bulli dal prenderlo in giro. È sempre sottomesso da tutti. Dentro di lui si sviluppa una vergogna enorme, ma non solo a scuola. Questa sensazione trova spazio anche fuori e nella quotidianità. Comincia proprio a percepire dentro di sé una vergogna fortissima proprio in generale, specialmente dopo il ritorno in casa di suo padre. Una volta finita la guerra, nel 1945, l'uomo viene liberato, e secondo una fonte che ho trovato su internet, un anno dopo fa ritorno tra le mura domestiche. Ma ragazzi, al suo rientro non viene proprio accolto bene. Molti suoi conoscenti lo reputavano un codardo piuttosto che un eroe. Credevano che fosse stato vile, un buon a nulla, dato che si era subito fatto catturare dai nemici. Di conseguenza, anche il piccolo Andrei è deluso dal padre, e crede che per colpa sua la loro famiglia non sarà mai rispettata da nessuno. Un'ulteriore vergogna, insomma. Comincia a soffrire molto per questo, e nessuno riuscirà mai a togliergli questo rancore verso il padre. Ovviamente, ragazzi, un uomo che torna a casa dopo un periodo di prigionia non dovrebbe essere considerato un codardo, ma ai tempi, e da quelle parti, si ragionava così. In ogni caso, era Andrei, che più di tutti percepiva questo imbarazzo. Sentiva che la sua vita facesse proprio schifo. Credeva di avere una pessima famiglia. Non si sentiva bello, apprezzato. E i suoi compagni, che lo bullizzavano, aggravavano ancora di più la situazione. Ma almeno poteva contare sui suoi risultati scolastici. Infatti, a scuola, tutto sommato, andava piuttosto bene. Era bravo a leggere e memorizzare le cose. Ma crescendo, e con l'arrivo dell'adolescenza, cominciano anche ad arrivare altri problemi, ben più gravi. Questo è il periodo che più di tutti segna le nostre vite. E quella di Andrei viene segnata da ulteriori imbarazzi e difetti, di cui si accorge troppo tardi. All'apparenza sembra un ragazzo a posto. È diventato di bel aspetto, ha un ottimo fisico, ed è riuscito a ricevere un diploma eccellente nel 1954. In questo periodo, però, prende consapevolezza di un suo nuovo limite. Praticamente, un giorno, decide di appartarsi con una ragazza. Ma questa scoppia a ridergli in faccia quando nota che lui non riesce ad avere un rapporto. Ok? Diciamo così. Andrei sembra essere impotente e incontinente se la fa addosso dall'imbarazzo. Ecco, dopo questo episodio, si sente tremendamente umiliato. E nella sua mente, già fragile per i motivi di cui abbiamo parlato prima, inizia a svilupparsi un odio profondo verso le donne. Sempre in questo periodo, un'altra ragazza suona alla sua porta. Si chiama Tania Bala, ha 13 anni, ed è un'amica di sua sorella. Andrei, a questo punto, ha 18 anni, e non sono riuscito a trovare il motivo, ma decide di aggredire questa amica di sua sorella. Tania, ovviamente, cerca di divincolarsi dalla sua presa, ma è terrorizzata. E il fatto di vederla lì, impaurita, immobile, incapace di reagire, fa eccitare sessualmente Andrei. E per questo motivo riesce ad eiaculare. Quindi non era impotente, aveva solo una spiccata preferenza per la violenza. Altre fonti, comunque, raccontano la dinamica in modo diverso. C'è chi dice che non sia stato un vero e proprio atto sessuale, né tantomeno un'aggressione. In qualsiasi modo sia andata, comunque, da quell'incontro, Andrei non sarà più lo stesso. Il tempo passa, e il ragazzo diventa un giovane uomo. Vuole proseguire con gli studi, ma purtroppo non riesce a superare l'esame di ammissione all'università di Mosca. Ed era il suo sogno entrare in quell'università. Per questo si arrabbia con se stesso, ma soprattutto con suo padre, perché comincia a credere di non essere stato ammesso a causa di questa vergogna familiare. E la situazione in casa, come potete immaginare, diventa insostenibile. Praticamente, oltre al clima sempre teso, i cicatilo erano così poveri che Andrei, per un po', è costretto a dormire alla stazione dei treni. Il suo sogno di trasferirsi a Mosca e magari di fare una vita un po' più bella va completamente in frantumi. Si ritrova costretto a ridimensionare completamente le sue aspettative sul futuro e sulla carriera. Si iscrive quindi in un istituto tecnico e durante questo periodo ha la sua prima vera storia d'amore con un'altra amica di sua sorella, di cui non conosciamo il nome però. Questa storia sarebbe durata meno di due mesi, niente di serio. Il ragazzo comunque termina i nuovi studi e nel 1955 si trasferisce in una città chiamata Niz-Niz-Tagil, non so come si dica. Va lì per una sorta di progetto di costruzione a lungo termine, una sorta di cantiere e durante questo lavoro si ritrova di nuovo di fronte alle sue incapacità e insicurezze. Andrei piace ai suoi colleghi ma ha costantemente paura di essere deriso o ridicolizzato. Queste sue preoccupazioni sembravano proprio non andarsene dal suo cervello. Nel 1957 poi viene chiamato per il servizio militare e anche lì le cose non vanno affatto bene. Non riesce ad integrarsi, si isola e decide di non andare con i suoi compagni quando la sera questi andavano a rimorchiare della ragazza nei locali. Spesso lui rimane solo nella sua branda e si mette a leggere o studiare politica. Tra i suoi compagni comincia a circolare la voce che avesse tendenze omosessuali o che fosse proprio gay al 100%. E sebbene non sia assolutamente niente di strano, nella Russia del 1957 l'omosessualità era illegale. Sarebbe stato un casino se qualcuno l'avesse denunciato. Per fortuna per Andrei però queste voci rimangono tali. Nessuno lo denuncia. Comunque dopo aver finito il servizio militare nel 1960, a 24 anni, torna a casa dei suoi per un breve periodo. Malgrado avesse ridimensionato le sue aspettative di vita, aveva ancora dei sogni e delle ambizioni. Quello che sapeva era che non voleva restare nel villaggio in cui era nato e cresciuto. Decide così di spostarsi nel distretto di Rodionuovo, Nezvetazskaya, dove trova lavoro come tecnico telefonico. In questo periodo la sua vita sembra finalmente andare in maniera decente. Aveva un buon lavoro, una buona paga e una casa tutta sua con acqua corrente, elettricità e un bagno, che era un lusso per lui e per quei tempi. Nonostante le osterità, decide di portare la sua famiglia a vivere in casa sua per un po' di tempo, almeno finché non avrebbero trovato un'altra sistemazione. E quando finalmente trovano un'altra casa, Andrei rimane a vivere da solo, lì. A questo punto ragazzi la sua vita gli piaceva, non poteva lamentarsi di nulla, ma soffriva ancora molto per via della sua timidezza con le donne. Non le odiava più, non come prima almeno. Anzi, comincia di nuovo a tentare degli approcci con loro, ma senza successo. Tatiana, sua sorella, che intanto si era sposata, si rende conto che Andrei non avrebbe avuto speranze di incontrare qualcuna e di sistemarsi. Quindi per compassione o pena, decide di fargli incontrare una sua amica, una donna, di nome Feodosia Odnaceva. E stranamente i due si trovano bene insieme. C'è da dire però che al loro primo appuntamento, lui non era stato nemmeno in grado di guardarla negli occhi, tanto era imbarazzato. Feodosia però, malgrado tutto, trova interessante Andrei. Se ne innamora, anzi, perché percepisce che era diverso dagli altri uomini della sua età, che invece erano più spigliati, donnaioli e amanti dell'alcol. Andrei non era niente di tutto ciò, ed era anche un buon partito perché aveva una casa e un lavoro sicuro. Insomma, il matrimonio era imminente. Andrei e Feodosia si sposano nel 1963, ma la loro prima notte insieme è a dir poco imbarazzante. La donna si rende conto solo in quel momento dei problemi di impotenza, tra virgolette, del marito, e lui, come sempre, non riesce a trattenere l'imbarazzo. Nonostante tutto, in qualche modo sconosciuto, riescono a mettere al mondo dei figli. Due, per l'esattezza. Una bambina di nome Liudmila, nata nel 63, o nel 67 a seconda delle fonti, e un bambino di nome Yuri, nato nel 69. La loro famiglia all'apparenza, se vista dall'esterno, era, diciamo, perfetta. Nessuno si sarebbe mai immaginato che il timido e strano Andrei avrebbe fatto carriera e avrebbe messo su famiglia. Eppure eccolo lì, felice con la sua famiglia e con un buon lavoro. Ma questo non bastava. Andrei non aveva perso la sua ambizione, e ora che aveva molte più possibilità rispetto al passato, voleva puntare ancora più in alto. Decide così di iscriversi in un'università, e questa volta ci riesce. Entra alla Libera Università di Arte di Rostov, e nel 71 ottiene la laurea in lingua e letteratura russa, e riesce anche ad ottenere un lavoro come professore di filosofia nella città di Novosacchinsk. Ecco, potrei concludere qui la storia dicendovi che da questo momento in poi la sua vita è andata perfettamente, ma purtroppo no, non sarebbe un mio video altrimenti. Le cose non vanno neanche ora con la laurea e con un nuovo lavoro, anzi nella sua vita insorgono nuovi aspetti e nuove sfide interiori che lo avrebbero cambiato ancora e in peggio. Per quanto avesse un'ottima istruzione, un ottimo lavoro e una famiglia all'apparenza perfetta, niente di tutto ciò lo entusiasmava davvero. Ci sono diversi motivi per cui Andrei non era felice. Il primo, forse il più determinante, era sua moglie. Lei era controllante e autoritaria. Lo sottometteva spessissimo, e lui, avendo un carattere remissivo, non poteva far altro che cedere e assecondarla. Non poteva chiedere aiuto a nessuno perché sarebbe stata una vergogna. La moglie che lo fa sentire così e lui non si ribella? Assurdo no? Nessuno l'avrebbe aiutato. Secondo lui. Perché avrebbero pensato che era un mezzo uomo. Per lui sarebbe stata una vergogna immensa ammettere di essere maltrattato dalla moglie. E in effetti c'era un po' questa concezione che, oddio, purtroppo c'è ancora adesso e anche in Italia, eh. Non a questi livelli, però c'è ancora adesso, è una cosa tristissima. Cioè, non esiste che un uomo non può essere abusato da una donna. Cioè, c'è anche l'abuso in questo senso, ovviamente. Ed è grave tanto quanto quello da uomo a donna. E soprattutto, non dovete avere paura se siete uomini che vengono abusati. Non dovete avere paura di denunciare. Non c'è niente di male. Può succedere. Non siete meno forti, meno uomini. Cazzate, ok? Mi fate incazzare adesso, mi fate incazzare. Denunciate. Comunque, a parte questa cosa qui, lui adorava i suoi figli, ma non provava più attrazione per Feodosia. E il suo lavoro non lo aiutava affatto. Essere un professore non era un lavoro che lo appagava, ma non perché fosse scarso a livello accademico, ma perché non si faceva rispettare. Ancora una volta, l'ennesima a questo punto, Andrei veniva sottomesso. E persino dai suoi stessi alunni non riusciva a controllarli. E ancora una volta, era vittima della scuola, pur avendo una posizione di potere. I suoi colleghi ovviamente non lo aiutavano, anzi nessuno lo rispettava in quell'istituto e nessuno si interessava davvero a lui. Per tutti questi motivi, Andrei comincia a soffrire di depressione e la sua mente inizia a partorire strani pensieri e idee. Non si era mai dimenticato del piacere sessuale che aveva provato durante quell'aggressione a 18 anni. Ma dal momento che non poteva competere con nessuno a livello fisico perché si sentiva incapace, comincia a pensare che le uniche vittime possibili per esternare questo suo piacere fossero persone indifese, per esempio i bambini. L'uomo comincia a comportarsi in modo decisamente sospetto a scuola. Inizia a sedersi vicino le bambine, a guardarli in modo strano, un po' inquietante, ovviamente mettendole a disagio. Questi atteggiamenti sarebbero andati avanti per ben tre anni. Poi finalmente, la scuola per cui lavorava, viene a sapere di questa storia e prende provvedimenti. Chiedono ad Andrei di dimettersi di sua volontà. Se lo avessero cacciato loro, avrebbero dovuto ammettere che nella loro scuola c'era un molestatore e non volevano infrangere il nome dell'istituto. Per questo, nessuno denuncia i suoi comportamenti. Ma anche perché le molestie sui minori da quelle parti, e in quegli anni, erano un tabù gigante. Per cui Andrei si dimette e perde il lavoro. Si dice che la moglie sapesse di questa sua strana ossessione, ma che l'avesse fatta passare come uno scherzo, sempre per il fatto che era un tabù di cui nessuno parlava, per omertà e sdegno. Eppure, se solo qualcuno avesse già fatto qualcosa all'epoca, se qualcuno avesse anche solo provato a denunciarlo o ad aiutarlo, forse questa storia avrebbe preso una piega migliore. Sta di fatto che Andrei trova molto presto un altro lavoro come insegnante, ma questa volta i suoi alunni sono più grandi rispetto alla scuola precedente. Per lui è una cosa positiva, perché adesso poteva molestare delle ragazzine un po' più grandi. Ancora una volta non riesce a farsi rispettare. E nel 78, a causa di tagli al personale, è il primo ad essere licenziato. Passa dell'altro tempo e trova un altro impiego in un nuovo istituto, in una città chiamata Shakti. In questo posto, che era un collegio, Andrei riceve anche un appartamento per sé e per la sua famiglia, che si trasferisce lì insieme a lui. L'istituto ospitava studenti dai 15 ai 19 anni, e l'uomo lì dentro in realtà insegnava poco, perché la sua mansione principale era quella di sorvegliare gli alunni nei dormitori, durante la sera, è già lì. Come era prevedibile, neanche lì nessuno lo rispettava, e gli alunni si ribellavano alla sua autorità in continuazione. Questa volta però Andrei non si fa più mettere i piedi in testa. Questa volta decide di farsi valere, ma nel modo più sbagliato che potesse trovare. Una sera Andrei decide di aggredire uno dei ragazzi mentre dormiva, e ci riesce. Ma questa aggressione viene subito messa a tacere. Tutti facevano finta di non sapere nulla, era come se nessuno avesse visto nulla, non se ne doveva parlare. A quanto pare Andrei non subisce nemmeno delle conseguenze per queste azioni, e purtroppo non sappiamo che fine abbia fatto il ragazzo vittima di questa aggressione. Come avete visto, la sua mente aveva gradualmente iniziato a dar vita a piani d'azione sempre più violenti. E questo è davvero solo l'inizio. All'insaputa della famiglia, l'uomo acquista una casetta con una sola stanza, che era situata nei bassi fondi della città. Era un alloggio segreto, che Andrei decide di tenere solo per sé, perché vuole costruirsi una seconda vita, più oscura, e lontana da occhi indiscreti. In cuor suo vuole soddisfare a tutti i costi i suoi desideri, vuole il dolore, vuole sottomettere, perché crede che solo così potrà essere felice. Questa sembra quasi una sua forma di rivincita, una rivincita per aver passato una vita a sentirsi inutile, e purtroppo riuscirà a compiere questa rivincita. In quel periodo Andrei comincia ad attirare gente di strada, poveri o indifesi. Si comportava sempre bene con loro all'inizio. Recitava la parte del buon samaritano, attirando anche tanti bambini. Andrei si stava essenzialmente esercitando per diventare una sorta di cacciatore di persone indifese. Tutto col fine di provare piacere sessuale, ovviamente. Poi, purtroppo, il 22 dicembre 1978, riesce a perfezionare la sua tecnica. Quel giorno, Ilena Zakotnova, una bambina di soli nove anni, stava tornando a casa dopo essere stata a pattinare con delle amichette. Una fonte dice invece che stava tornando a casa dopo essere stata da un amico. Sta di fatto che, tornando a casa, incrocia il cammino di Andrei, che era lì in giro. L'uomo la nota, la ferma, e i due iniziano a parlare. Ad un certo punto, lei gli dice che deve andare in bagno, e l'uomo la accompagna nella sua piccola casa, quella segreta. Ma non appena Ilena apre la porta, Andrei la colpisce da dietro. l'aggredisce a livello sessuale, e poi la coltella a ripetizione, fino a porre fine alla sua vita in un lago di sangue. Dopodiché, l'uomo scarica il suo corpo nel fiume Grusciovka, come se niente fosse. Soli due giorni dopo, la polizia trova il corpo martoriato della piccola vittima, e la notizia del ritrovamento sciocca tutti in città, ma neanche troppo. Non so spiegarvi. Come per la storia del killer della scacchiera. Ah, ok. È successo. Ok. Sta sparendo gente. Ok. In tutto ciò, Andrei si sentiva felicissimo, perché si era sentito vivo, potente, e aveva adorato vedere una persona indifesa soffrire tra le sue mani. Purtroppo questo è davvero solo l'inizio. Il delitto di Ilena Zaccotnova non passa inosservato alla polizia, che giustamente prova a trovare un colpevole. La cosa assurda è che riescono in fretta a risalire ad Andrei. Lo interrogano per ben otto volte, ma proprio quando lo stavano per incastrare, sua moglie dà alla polizia un alibi di ferro. Dice loro che suo marito era rimasto a casa tutta la notte, quindi non poteva essere stato lui. In realtà era una bugia, ma gli investigatori accettano questa versione e lo scagionano. Non avevano prove incriminanti, per cui questo era abbastanza. Andrei, in sostanza, è salvo. Anzi, in questo caso viene anche colpito da una fortuna improvvisa, perché un uomo innocente viene condannato al posto suo. Si trattava di Aleksandr Kravchenko, un criminale che in passato era stato arrestato per stupro. Non si sa il perché, ma quest'uomo aveva deciso di confessare di aver ucciso Ilena, anche se non era vero. È probabile che sia stato incastrato in qualche modo durante gli interrogatori, ma non lo sappiamo per certo. Ad ogni modo, Aleksandr viene accusato e condannato alla pena di morte al posto di Andrei. Pena che però, nel 1980, sarebbe stata tramutata in 15 anni di reclusione, che al tempo era il tempo di incarcerazione più lungo secondo la legge. Nell'83, però, sotto continue pressioni della famiglia della vittima, la pena dell'uomo viene ripristinata a pena di morte ed eseguita. Se ci pensate, era capricciante. Non solo non avevano trovato l'uomo giusto, ma avevano giustiziato un altro uomo per qualcosa che non aveva commesso. Assurdo. Andrei, intanto, ovviamente, si sente assicuro. Pensa che ormai non l'avrebbero mai incriminato per le sue azioni. E ci credo. Tuttavia, al collegio in cui lavorava, arriva la notizia del delitto di Elena e del fatto che Andrei era stato interrogato ben otto volte. E anche qui, per una serie di tagli al personale, l'uomo è il primo a venire licenziato. Per l'ennesima volta si ritrova senza un lavoro. Ma questa volta non vuole più avere a che fare con l'insegnamento. E con grande delusione di sua moglie, accetta un mestiere un po' più umile e facile da ottenere. Comincia a lavorare, come ha detto, ai rifornimenti o come commesso per un complesso industriale. Sempre a Shakti. Qualsiasi fosse la sua mansione, questo nuovo lavoro lo avrebbe costretto a spostarsi spesso. Ma, nonostante questo, gli avrebbe fornito un appartamento in cui vivere con la sua famiglia. Era un posto decisamente più umile, dal momento che sarebbe stato via per la maggior parte del tempo. Ma comunque andava bene. Ecco, i viaggi di lavoro diventano per Andrei un ottimo modo per riuscire a trovare nuove prede. Ma dal momento che aveva già destato sospetti alla polizia per il diritto di Elena, decide di rimanere calmo per un po' di tempo. Passano così tre anni di inattività. Poi, durante uno dei suoi viaggi di lavoro a Rostov, conosce una ragazza di nome Larisa Tkachenko, di 17 anni. Stando a molte fonti, era una prostituta. La ragazza si trovava alla fermata dell'autobus, nei pressi della biblioteca di Rostov. Ed è lì che i due si sarebbero conosciuti. Dopo una breve chiacchierata, Larisa accetta di andare con lui. Sperava credesse del cibo, dell'alcol e un po' di divertimento. Capite? Ma dopo aver passeggiato un po' in un bosco isolato, Andrei la attacca all'improvviso. La strangola e poi procede a mutilare il suo corpo senza vita. Purtroppo questo delitto lo eccita addirittura di più rispetto al primo e da questo momento capisce che quello che vuole è esattamente questo. Uccidere tra atroci sofferenze. Gli piaceva così tanto perché si eccitava sessualmente, cosa che in altri modi convenzionali, diciamo, non riusciva a fare. E così, dopo aver infierito anche sul corpo di Larisa, il giorno dopo vengono trovati i suoi resti. Nessuno ancora sospettava che i due delitti fossero compiuti dalla stessa persona e ancora una volta Andrei riesce a farla franca. Passano così altri nove mesi in cui Andrei non uccide nessuno. Ma ecco che il 12 giugno del 1982 torna in azione. Ci troviamo ora nella città di Donskoi. La tredicenne Lyubov Biryuk sta sbrigando delle commissioni per sua madre quando per sua sfortuna incontra Andrei. L'uomo si trovava lì per un altro viaggio di lavoro. Non sappiamo il modo in cui si sono conosciuti, ma alla fine, come aveva fatto con le altre due vittime, l'uomo la aggredisce violentemente. La porta lontano da occhi indiscreti e la pugna in varie parti del corpo, compresi gli occhi. Poi copre un po' il suo cadavere e se ne va, lasciandolo sotto il sole caldo di quell'estate. Due settimane dopo i resti della ragazza vengono ritrovati, ma ormai di lei rimanevano solo ossa. Andrei da questo momento diventa praticamente inarrestabile. Nota che nessuno sospettava di lui. Quindi perché non continuare, no? Nei sei mesi successivi al terzo delitto toglie la vita ad altri sei giovani. E due di questi, uccisi nel mese di settembre, non erano femmine, ma maschi. Erano Oleg Pozidaev, di nove anni, e Sergei Kuzmin, di quindici. La cosa curiosa e inquietante del suo modus operandi è che col tempo cambiava e diventava sempre più sadico. Ad Oleg, per esempio, ha reciso i genitali e si l'è portati via. Non so per farci cose e non lo voglio nemmeno sapere. L'ultimo diritto di questi sei, per sottolineare ancora quanto cambiasse il suo modus operandi, è quello della povera Olga Stalma Cenok, una bambina di dieci anni, uccisa all'11 dicembre 1982. Con lei è stato un vero mostro. In generale non accoltellava le sue vittime per più di 30 volte, ma aveva preso il vizio di asportare loro delle parti del corpo, come ricordi, come cimeli. Nel caso di Olga, aveva deciso di prendersi il suo cuore, letteralmente. Poi, come aveva fatto anche con altre vittime, le aveva cavato gli occhi. Il ritrovamento del suo corpo porta i detecti a notare finalmente un collegamento tra gli omicidi. E direi che, dopo nove delitti, era ora. Era evidente che tutte quelle vittime erano state uccise più o meno allo stesso modo, ma con una furia e un accanimento crescenti. Tuttavia, nonostante i sospetti, gli investigatori non riescono a trovare una pista solida da seguire. E intanto il tempo passa, e Andrei, nell'83, uccide altri otto bambini e giovani adulti, molte più vittime rispetto ai mesi prima, segno del fatto che non riusciva proprio a smettere di farlo. Sapeva come non farsi beccare, e come attirare a sé le sue prede. Per la prima volta in vita sua, si sentiva capace di fare qualcosa, uccidere. Le sue vittime erano perlopiù prostitute, alcolizzati, senza tetto, bambini, ragazzini scappati di casa, cioè le persone più fragili. I suoi approcci con loro erano sempre gli stessi. Si presentava come un uomo disponibile, che poteva dar loro del cibo, dei soldi, o un riparo. Poi li portava lontano, o in un bosco, o nella sua seconda casa. E lì, li uccideva. Col passare del tempo, non si fa neanche tanti scrupoli a scegliere il sesso delle sue vittime, l'importante per lui era uccidere. Alla fine del 1983, le vittime totali ammontavano a 17. Questo numero fa già venire i brividi, soprattutto considerando che la maggior parte di loro era minorenne, e poi considerando anche che le uccideva per fini sessuali. Davvero terribile. La polizia comunque comincia a prendere molto seriamente la questione, e viene formato un team, guidato dal maggiore Mikhail Fetisov, per dirigere le indagini. Il maggiore Mikhail concentra i suoi sforzi intorno a Shakti, e assegna al medico legale Viktor Burakov la guida delle operazioni. Operazioni che mostrano ai cittadini la forza, e anche la cattivere della polizia. Infatti, nessuna gente si dimostrava clemente con i sospetti. Ma che sospetti? Praticamente vengono indagati tutti i malati di mente, e i colpevoli di crimini sessuali dell'area, andando per esclusione. Una tecnica non troppo all'avanguardia, ma se pensiamo che non c'era neanche una pista da seguire, possiamo dire che è comprensibile. Pensate che alcuni di questi ragazzi che vengono interrogati e sospettati, purtroppo confessano gli omicidi, ma solo a causa di due motivi. O perché avevano dei problemi mentali, il che spesso li portava ad ammettere cose che non erano vere, oppure a causa dei brutali interrogatori a cui erano sottoposti. Il team guidato dal maggiore Mikhail ad ogni modo non ottiene i risultati che sperava. Così, provano un altro approccio. Dal momento che adesso le vittime erano anche molti ragazzi, vengono letteralmente setacciate le comunità gay. Oltre 150.000 persone vengono interrogate e schedate, prima che anche questa strategia venisse abbandonata. Perché sì, niente di quello che fanno serve a qualcosa. E intanto il tempo passa, e le persone continuano a morire. Nel 1984, la vita di Andrei è un vero casino. A lavoro, molti si lamentavano della sua condotta, e a casa con la sua famiglia era un disastro. Non gliene fregava più niente di sua moglie, dal momento che ogni giorno lo passava praticamente a progettare la sua prossima uccisione. La cosa strana è che all'apparenza lui e Feodosia sembravano molto uniti, ma nella realtà dei fatti non erano mai stati più distanti di così. Intanto la sua furia omicida continua. Il 9 gennaio dell'84, nel parco degli aviatori di Rostov, Andrei toglie la vita a Natalia Salopinina, una ragazza di 17 anni. Sempre nello stesso parco, mesi dopo, toglie la vita a Marta Ryabenko, una donna di 44 anni. La vittima più grande fino a quel momento. Entrambe queste donne avevano condotto una vita a dir poco problematica, e avevano entrambe problemi con l'alcol. I loro corpi sono stati trovati in condizioni davvero disastrose, pugnalati e mutilati. Per questi due delitti, come era già successo, viene accusato e condannato un innocente, dando ad Andrei ulteriore sicurezza, ma soprattutto ulteriore tempo per uccidere ancora indisturbato. È davvero assurdo che non si riuscisse a risalire a lui, madonna. Comunque, il 25 maggio dell'84, Andrei toglie la vita a Tatiana Petrosian e anche a sua figlia Svetlana, che era a corsa verso di loro per difendere la madre. In generale, il 1984 è l'anno in cui compie più delitti in assoluto. Ben 15. 15 omicidi in un solo anno. È un numero impressionante, ragazzi. E la polizia arrivata a questo punto non ha proprio idea di che cosa fare. In un disperato tentativo di trovare il vero colpevole, le forze dell'ordine aumentano il numero di pattuglie e agenti in borghese nelle fermate dei trasporti pubblici principali. Le autorità sovietiche, pur non comunicando la notizia al popolo, indagano in maniera serrata. Vengono inviate decine di investigatori e agenti tra Rostov e Shakti. Ma ancora sembra non bastare. Tuttavia, sempre nell'84, nel periodo dell'autunno o leggermente prima a seconda delle fonti, accade una cosa importante. Un giorno, un gruppo di agenti in borghese stava tenendo sott'occhio un uomo nei pressi di una fermata degli autobus a Rostov. Quest'uomo era Andrei. E si comportava in maniera sospetta, sembrava agitato, andava su e giù per i marciapiedi. Insomma, sospetto. Gli agenti quindi lo fermano e scoprono che su di lui pendevano alcune denunce per furti. Per questo motivo e non per altri, attenzione, viene arrestato. Ancora una volta è sotto le mani della legge ma non per i veri motivi per cui sarebbe dovuto essere lì. Nonostante tutto il suo profilo e gruppo sanguigno vengono analizzati dagli inquirenti ma risultano differenti dalle tracce di liquido seminale lasciate dall'assassino che stavano cercando e che da anni stava uccidendo uomini, donne e bambini. Questo liquido seminale era stato trovato nel corpo di una delle ultime vittime, un certo Dmitry Ptasnikov, un bambino di soli dieci anni, mio Dio. Comunque, nonostante gli esami, i campioni del gruppo sanguigno di Andrei non corrispondevano con le tracce di liquido seminale. Che è strano, no? Ecco, Andrei non lo sapeva ma era una delle poche persone nelle quali il gruppo sanguigno risulta diverso sia analizzato e messo a paragone tra un campione ematico quindi di sangue e uno di liquido seminale. Cioè, ha avuto una fortuna che fastidio. Questa discrepanza ora è stata risolta con i moderni test del DNA ma ai tempi negli anni 80 poteva ancora capitare qualche imprecisione. Ancora una volta Andrei è libero e c'era mancato davvero poco che lo scoprissero questa volta ma no, di nuovo la polizia se lo lascia scappare così lui può tornare ad uccidere ma non più indisturbato perché dopo l'arresto per le denunce di furto si era reso conto che era diventato più difficile. La polizia aveva gli occhi aperti lui era schedato doveva stare decisamente più attento ed essere meticoloso. Intanto Andrei perde il lavoro ma ne trova subito un altro in una fabbrica di Rostov questa volta diventando caporeparto. Anche qui veniva deriso dai suoi colleghi e considerato come uno senza speranza all'interno della fabbrica. Molto probabilmente però lui non si curava più di queste cose aveva una doppia vita da mandare avanti il che era molto più importante per lui. Infatti il giorno dopo dell'inizio della sua carriera come caporeparto miete un'altra vittima Natalia Golozovskaya di 16 anni anche lei uccise nel parco degli aviatori a Rostov. Qualche mese dopo è il turno di Lyudmila Alexieva di 17 anni dopodiché comincia a viaggiare ancora per lavoro e questa volta si reca a Tashkent la capitale dell'Uzbekistan. È l'8 agosto dell'84 e appena sceso dall'aereo compra un coltello. Un po' di tempo dopo non è sicuro quanto uccide una donna non identificata ritrovata poi senza la testa. Mentre non era a Rostov poi toglie anche la vita ad Alexei Voronko di 9 anni. Alexei era sparito mentre si recava da sua nonna e un suo compagno di classe ha raccontato di averlo visto in compagnia di un uomo di mezza età che aveva denti d'oro e una borsa sportiva. La piccola vittima è stata uccisa presso una stazione ferroviaria e dopodiché Andrei gli ha amputato i genitali. Non era la prima volta che lo faceva come sapete anzi ormai questa azione era entrata a far parte a tutti gli effetti del suo modo superandi purtroppo. Comunque dopo un altro presunto delitto torna a Rostov dove continua a mietere vittime. A questo punto la polizia è esasperata non riesce proprio a trovare una soluzione. Andrei però per via sempre dei sospetti accentuati nei suoi confronti viene arrestato per degli accertamenti il 14 settembre dell'84 e il suo sangue viene di nuovo analizzato ma ancora una volta non c'è verso di collegarlo alle prove anche se per tutti era chiaro che c'entrasse qualcosa. Due mesi dopo una volta rilasciato Andrei si sente tipo rinascere per lui è una sorta di nuovo inizio. Nonostante tutti i delitti per la legge lui era pulito non c'entrava niente aveva la possibilità di ritornare dalla sua famiglia e trovare un altro lavoro perché sì era stato licenziato anche in quello alla fabbrica. Poco dopo il suo rilascio quindi trova un impiego come ingegnere presso un'altra fabbrica questa volta di locomotive. Durante questo periodo forse per non destare ulteriori sospetti decide di non uccidere nessuno si limita a far finta di essere un bravo cittadino amorevole e legato alla sua famiglia ma ormai lo sappiamo non poteva resistere ai suoi macabri istinti. Andrei non poteva fare a meno di pensare le sue prede era solo con loro che riusciva a sentirsi vivo potente. Quindi come era facilmente prevedibile dopo un breve periodo di tranquillità torna ad uccidere. E la storia si ripete è di nuovo in viaggio di lavoro questa volta a Mosca in cui se ricordate quando era più giovane voleva trasferirsi voleva laurearsi lì vivere lì fare una vita serena tranquilla lì questo però ora era solo un ricordo lontano. Comunque è finalmente nella sua città dei sogni ma i suoi obiettivi sono decisamente diversi rispetto al passato e direi a dir poco terrificanti. Il 31 luglio del 1985 toglie la vita la diciottenne Natalia Poklistova questo diritto è stato un azzardo perché il maggiore Mikhail Fetisov l'uomo che guidava il team investigativo contro di lui si trovava in città era a Mosca ed è proprio lui che si occupa del caso dell'ispezione del corpo di Natalia ecco si rende subito conto che si tratta dello stesso killer di Rostov che doveva quindi trovarsi a Mosca in effetti aveva ragione Andrei era proprio lì tuttavia quest'ultimo decide di non uccidere più nessun altro in città sapeva che sarebbe stato troppo pericoloso ma su rientro a casa torna subito all'azione togliendo la vita ad Irina Gugliaeva di 18 anni questa ragazza era una vagabonda con problemi di alcolismo ed è stata uccisa in una zona boscosa presso la stazione dei bus di Shakti questa volta sotto le sue unghie vengono trovati dei fili rossi e azzurri e fra le sue dita un capello grigio sul suo corpo ci sono delle tracce di sudore che analizzate rilevano un gruppo sanguigno AB cosa molto strana perché la ragazza aveva il gruppo sanguigno A quest'ultimo crimine però con così tanti indizi così tante prove da raccogliere demoralizza ancora di più la polizia ancora una volta le pattuglie e controlli aumentano e questo non fa altro che allarmare il killer che si ferma ancora una volta per precauzione questa pausa però dura ben due anni nel frattempo Andrei viene promosso a lavoro ma non perché fosse bravo in quello che faceva semplicemente perché nessuno voleva assumersi quel ruolo quindi lo hanno affidato a lui i suoi figli ovviamente crescono e Andrei riesce anche a trovare un lavoretto per sua figlia Liudmila che intanto si sposa e fa un figlio ma il suo matrimonio non sarebbe durato a lungo il tempo comunque continua a scorrere tempo di tranquillità in cui non si registrano nuove vittime con le caratteristiche di quelle di Andrei e si arriva quindi al 1987 quando Andrei non ce la fa più vuole uccidere ancora è il 16 maggio 1987 Andrei viene mandato per lavoro in un'altra città ancora chiamata Revda lì preso dalla voglia e dall'astinenza toglie la vita ad un ragazzino di 13 anni di nome Oleg Makarenkov il 29 luglio dello stesso anno uccide Ivan Bilovekij di 12 anni durante un suo viaggio in Ucraina pensate che l'aggressione è stata così brutale questa volta che il coltello di Andrei si è spezzato e poi ancora una volta in un'altra città a Leningrado compie altri diritti in questi anni la sua brutalità sta aumentando comincia ad asportare molte parti anche nei corpi femminili e purtroppo miete più di una decina di altre vittime come avete potuto capire si tratta di un vero mostro che capisce quando fermarsi e capisce anche quando riprendere dall'esterno sembra un ometto timido incapace ma di nascosto sa essere uno dei peggiori serial killer della storia ragazzi davvero quando arriveremo ai numeri è uno dei peggiori serial killer fidatevi la stampa comincia a chiamarlo con molti nomi come il mostro di Rostov il macellaio di Rostov cittadino X e lo squartatore rosso ma purtroppo ci vorrà ancora un po' di tempo prima che il suo vero nome Andrei Cicatilo venga alla luce la lista delle sue vittime è talmente lunga che servirebbe un giorno intero per leggerla tutta e basta solo dare un'occhiata alla tabella su wikipedia per avere un'idea di quanti hanno perso la vita a causa sua e la cosa che fa arrabbiare è sapere che molti di loro erano giovanissimi spesso bambini ma se oggi sappiamo tutto questo conosciamo tutti questi dettagli orrendi tutte le date tutte le morti tutto lo dobbiamo all'ultimo delitto di Andrei e ovviamente a ciò che ne è conseguito è il 6 novembre 1990 Andrei sta uscendo dal bosco di Shakti ha appena ucciso Svetlana Korostik di 22 anni una giovane prostituta lei è la sua vittima numero 53 sì 53 fare a brividire negli agenti della squadra omicidi di Rostov sono di pattuglia nella vicina stazione ferroviaria e notano l'uomo camminare in modo sospetto vanno da lui e gli chiedono cosa stesse facendoli Andrei si dimostra agitato e risponde che è andato a raccogliere dei funghi nel bosco ma il suo abbigliamento non era proprio adatto a quel tipo di attività aveva una sorta di abito con una borsa sportiva di nylon inoltre sul volto aveva degli strani schizzi di sangue gli agenti però controllano i suoi documenti e lo lasciano andare assurdo? sì anche perché se solo avessero controllato dentro quella borsa di nylon avrebbero trovato i seni recisi della sua ultima vittima dio mio comunque poco dopo due cadaveri vengono trovati nella stessa zona del bosco in cui gli agenti avevano visto Andrei uscire quindi si ricordano di questo dettaglio e avendo registrato i suoi documenti e i suoi dati lo rintracciano subito ma non lo affrontano direttamente pensano che Andrei avesse a che fare con gli omicidi ma per capirlo bene lo mettono sotto sorveglianza il pomeriggio del 20 novembre 1990 l'uomo esce dalla sua casa di Rostov non se ne accorge ma ha una pattuglia che lo segue poco lontano da lui l'uomo ha con sé un contenitore di birra vuoto da 300 ml passaggia tranquillo fermando tutti i bambini che incrocia questo è un gigantesco campanello d'allarme per cui i poliziotti rimangono in allerta pronti ad intervenire in qualsiasi momento Andrei entra poi in un bar dove compra la birra e riempie il contenitore gli agenti comunque trovano molto sospetto il fatto che l'uomo avesse vagato così tanto perché aveva camminato un po' fermando tutti quei bambini solo per andare a comprare della birra per via di questi dubbi e dei comportamenti molesti quando Andrei esce dal bar gli agenti decidono di intervenire prima che fosse troppo tardi finalmente e di nuovo lo arrestano il problema però ancora una volta è che non avevano prove per incriminarlo e c'era il rischio di doverlo rilasciare un'altra volta così all'interrogatorio attuano una mossa che si rivelerà estremamente efficace in sostanza l'investigatore che parla con lui tira fuori il discorso del famoso cittadino X che stava uccidendo uomini donne e bambini chiacchiera con Andrei di quanto questo serial killer fosse famoso ma gli dice anche che doveva trattarsi di una persona molto malata che tramite i suoi omicidi stava cercando di chiedere aiuto e le autorità sovietiche volevano proprio far questo aiutarlo Andrei viene sostanzialmente manipolato da queste parole e sprunato a confessare dentro di lui sentiva che c'era una possibilità di salvezza malgrado tutto si sentiva un po' con le spalle al muro però aveva come la sensazione che avrebbe potuto dire la verità perché confessando in caso di processo avrebbe potuto invocare l'infermità mentale alla fine quindi uno psichiatra viene mandato ad aiutarlo tra virgolette questa persona entra in sintonia con lui Andrei lo trova proprio simpatico e dopo una lunga conversazione ecco che arriva la famosa confessione Andrei ammette finalmente di essere lui il cittadino X il mostro di Rostov le sue parole da sole però per quanto allucinanti tremende e dettagliate non bastano allora è lui stesso a decidere di offrire le prove della sua colpa tra il 30 novembre e il 5 dicembre del 1990 conferma di aver commesso 56 omicidi non 53 come quelli che poi verranno accertati tre delle vittime infatti erano impossibili da identificare perché erano state seppellite e si trovavano in avanzato stato di decomposizione per questo non verrà accusato di questi tre delitti non so perché comunque pensate che in quel momento durante le confessioni gli investigatori pensavano che il cittadino X avesse ucciso solo 36 persone sono rimasti davvero sconvolti dalle sue parole e da quei numeri come avevano fatto a farsi sfuggire una persona così tanto pericolosa per così tanti anni allucinante andrei comunque si dimostra collaborativo viene scortato nei posti in cui aveva lasciato marcire i resti di alcune vittime mostra i posti anche i modi in cui aveva agito e tutto questo lascia gli agenti davvero senza parole finalmente però non avrebbe più potuto fare del male a nessuno la diffusione mediatica di questo caso ottiene un effetto terrificante sulla popolazione arriva uno tsunami di proteste tutti erano incavolati neri con lui comprensibilmente durante la sua detenzione prima del processo furono necessarie delle precauzioni speciali per lui perché come vi avevo accennato prima i crimini violenti a sfondo sessuale soprattutto contro i minori erano un tabù in Russia e i prigionieri accusati di questi reati venivano spesso sottoposti a violenze e a volte uccisi dai compagni di cella o da altri detenuti e a volte dai dipendenti della prigione il punto è che moltissime persone a quel punto volevano farlo fuori quindi si temeva che qualcuno potesse ucciderlo effettivamente prima del processo cosa che non andava bene bisognava farlo il processo ovviamente era come se tutta la Russia però lo volesse morto anche per questo in cella viene sottoposto a stretta sorveglianza sorveglianza video a sua insaputa lui come vi dicevo pensava di poter alleviare la sua condizione giocando la carta dell'infermità mentale e infatti davanti agli agenti si comportava da totale squilibrato con modi di fare eccentrici strani ma il suo comportamento nella cella dove pensava che nessuno lo stesse guardando era assolutamente normalissimo mangiava dormiva senza nessun problema faceva anche esercizio fisico ogni mattina e leggeva molti libri e giornali insomma la sua farsa non avrebbe funzionato riesce comunque ad arrivare a processo vivo senza venire ucciso da qualcuno cosa tutt'altro che scontata e lì una folla composta dai parenti delle sue 56 vittime era pronta a scavalcare tutti e buttarsi sopra di lui per picchiarlo a morte per questo stava dentro una specie di gabbia come possiamo vedere dalle svariate foto di quel giorno il processo di andrei comincia il 4 aprile del 1992 nonostante il suo comportamento strano e irreverente in aula viene giudicato sano di mente l'atmosfera lì era surreale davvero assurda perché molti presenti non avevano contegno lo riempivano di insulti e di minacce chiedendo alle autorità di rilasciarlo di liberarlo da quella gabbia in modo che potessero ucciderlo personalmente loro lì alcuni di loro svengono quando sentono nominare i loro parenti deceduti a casa di andrei e gli agenti in più di un'occasione hanno dovuto sedare delle risse partite dal nulla un processo così attivo così movimentato non l'avevo mai sentito comunque processo che termina a luglio di quell'anno e la sentenza viene posticipata al 15 ottobre quando dichiarato colpevole di 52 dei 53 omicidi accertati andrei viene condannato a morte per ognuno dei crimini commessi e lui una volta ottenuto il permesso di parlare si lancia in una sorta di sproloquio delirante contro il governo si vanta persino dei suoi crimini dicendo di aver fatto un favore alla società depurandola da persone inutili essendo le sue vittime spesso prostitute alcolisti ragazzi scappati di casa giovani con problemi alla fine la condanna a morte viene eseguita tramite un colpo di pistola alla nuca nella prigione di Rostov il 14 febbraio del 1994 dopo che il presidente russo Boris Elchin ha rifiutato il suo ultimo appello e questa era la sua vita andrei si è sempre sentito solo emarginato inutile nella violenza e nella depravazione ha trovato quel piacere che non aveva mai provato prima quindi lo ha inseguito ossessivamente per tutto il resto della sua vita in questo caso in particolare non riesco a farmi un'idea precisa secondo voi andrei è nato killer e maniaco oppure lo è diventato da cosa erano causate le sue parafilie e la sua voglia di uccidere pensando logicamente potremmo pensare che il contesto in cui è nato e cresciuto sia il maggiore responsabile ma è solo quello la sua storia mi ha ricordato molto il caso di Albert Fish per alcuni aspetti perché tutta questa violenza questa ossessione e appagamento sessuale nel fare del male e nel togliere la vita a qualcuno sono estremamente simili nei due casi Fish forse anzi probabilmente era addirittura più malato di Andrei nei modi e nelle ossessioni però davvero li ho trovati molto simili anche se ovviamente ci sono delle differenze sostanziali tra i due se volete recuperare il video su Fish ve lo lascio qui sopra qui sopra o comunque vi metto il video cliccabile alla fine di questo video ok ora ho davvero bisogno però di sapere la vostra perché vi giuro non riesco a capire da cosa è nata tutta questa ossessione cioè possibile che sia solo per le esperienze passate per il contesto in cui ha vissuto per la sua vita e se fosse solo per quello Andrei all'inizio era tutti gli effetti una vittima dei suoi tempi e delle persone attorno a lui quindi se fosse stato aiutato avrebbe comunque commesso questi atti atroci ditemi tutto ciò che pensate qui sotto intanto ai pochissimi che rimangono fino a qui anticipo che presto parleremo di una ragazza che pensava di avere dei buoni amici ma che alla fine purtroppo ha capito troppo tardi che non era affatto così spero quindi che rimarrete nei paraggi per cui se vi ho incuriositi ricordate di bassacrare il pulsante iscriviti però non amputategli in nessuna parte mio dio poverino ok mascheratole basta e adesso parlo con te sì proprio con te se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare ti consiglio questa storia da brividi oppure questa playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo vi ricordo infine di seguirmi anche su instagram se volete farvi i cazzi miei e niente vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file ah no aspetta vi avevo detto che avrei provato a fare due video a settimana sì nel 2024 intendevo nel 2024 farò due video a settimana non si sa quando però quando comincerà questa cosa sto cercando di portarmi avanti ma non è facile anche perché questi video sono molto lunghi e io sono molto lento ve l'ho già spiegato ciao wow